C'è soltanto un risultato possibile, la vittoria da perseguire in questo secondo anticipo in due settimane per il Lecce, a tanto così da insidiare la vetta della classifica. È un momento delicato da vivere mantenendo a dritta la barra della concentrazione e determinazione per Franco Lerda. Siamo bene, mentalmente siamo a posto, siamo pronti per questa partita, abbiamo preparato bene, anche se è stata una settimana un po' nomala perché volutamente abbiamo dato un giorno di riposo in più. Abbiamo raggiunto un atteggiamento tale, mentale, che non ci fa mai accontentare e questo per me si chiama mentalità e quindi dobbiamo solo stare sereni e tranquilli, lavorare forte come stiamo lavorando. È delicata e per il mister questa partita facile soltanto sulla carta con un viareggio in crisi nera di risultati e con allenatore sul punto di lasciare fino all'ultimo. Agli avversari si deve rispetto comunque. Io chi devo incontrare ho massimo rispetto. Riesco in qualsiasi squadra che vado a incontrare a trovare delle motivazioni e trovare dei punti pericolosi. 19 ai convocati, c'è anche Sacilotto ma farà il diciannovesimo, spiega Lerda, che ha dovuto modulare le scelte tattiche sulle molte assenze da infortunio a Bellazzini, Dumbia, Zigoni e da ultimo a Modio e sul non eccelso stato di forma di elementi fondamentali per il modulo consueto 4231, approvato infatti anche il 352. Tra i pali la scelta tra Perucchini e Caglioni è caduta su quest'ultimo.